Ciao a tutti ragazzi, cos'è questa magica scatola che abbiamo qua davanti? Semplicemente, grazie alle donazioni che ho ricevuto da parte vostra, ho deciso di investire parte del denaro che ho ricevuto in qualcosa di utile per la mia attività. Quindi andiamo a svelare il contenuto, qui troviamo un paio di faretti a led, questo che è già aperto, qui abbiamo appunto il contenuto, qui è il faretto, qui ci sono dei filtri che si possono togliere e cambiare, diciamo lo bianco, ma ne abbiamo degli altri, rosso, blu e giallo, e poi qui al di sotto ci sono dei trepiedi con l'asta allungabile, tra poco vi farò vedere anche qual è il risultato una volta aperto, in più sto aspettando anche un altro prodotto, ma per questo vi farò sapere più tardi, ciao! E allora eccoci di nuovo, come vi avevo promesso, con il secondo pacco, ovviamente già dalla scritta potete immaginare di che ora si tratta, io l'ho già aperto per vedere com'è, però lo riapro con modi, e eccoci qui con una webcam, dove sei? Eccoci, una webcam full attendee per le video interviste, che quindi insieme al faretto cercheranno di dare una linea un po' più professionale ai prodotti, ai contenuti che credo, insomma, poi mi direte voi che cosa ne pensate, qual è il risultato che ne viene fuori, ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, allora sono qui per raccontarvi dell'ultimo acquisto effettuato grazie alle vostre donazioni, lo scartiamo insieme, io in realtà avrò di quello che ho fatto in precedenza, ma non lo rinno a nessuno, e vi volevo ringraziare a proposito per le vostre donazioni, come sempre siete stati molto generosi, e qui appunto possiamo vedere l'ultimo acquisto, che è un microfono professionale, che serviva non solo per le puntate di fuori per oggi, ma per tanti contenuti in arrivo. Grazie ancora! Grazie a tutti!